Fatto salvo gli istituti prevalentemente in provincia dell'Aquila, rimasti chiusi oggi non certo per il Covid ma per la neve, la riapertura delle scuole in Abruzzo anche alla luce dei buoni risultati degli screening dei giorni scorsi è andata via in maniera ordinata su tutto il territorio regionale. Resta da capire e da attendere cosa accadrà nei prossimi giorni sempre che il numero degli studenti positivi resti contenuto come ora ma per il momento la situazione è sotto controllo. Stiamo gestendo le comunicazioni dei ragazzi risultati positivi nei giorni scorsi e quindi abbiamo preso tutti i provvedimenti del caso. Siamo molto attenti perché comunque quello che ci preoccupa e soprattutto quello che dobbiamo monitorare attentamente è quello che accadrà nei prossimi giorni. Cioè se e quanti saranno i ragazzi che si contaggeranno risulteranno positivi e questo numero inciderà sul numero dei ragazzi e eventualmente delle classi che devono essere messe a distanza. Quindi la giornata di oggi è stata una giornata ordinata e siamo molto attenti a capire che cosa accadrà nei prossimi giorni e quindi quali dovranno essere i provvedimenti per questo. Nel caso specifico qui su una popolazione studentesca di circa 1.400 alunni soltanto qualche decina risultata positiva. Se tutto resta così siamo tranquilli. Se i numeri fossero questi assolutamente sì. Io credo che la didattica in presenza sia un valore e questo lo abbiamo detto e confermato in tantissime circostanze. Naturalmente dobbiamo monitorare la situazione perché il ricorso alla didattica a distanza dovrà avvenire secondo sicuramente le indicazioni che ci sono arrivate dagli ultimi provvedimenti del governo e questi provvedimenti che sono da applicare in maniera abbastanza complessa perché le procedure di rilevazione sono comunque a carico della scuola. E sull'andamento dei contagi, tiene a precisare Di Michele, il ruolo delle scuole è relativo. Sono altri contesti dove la rischio è maggiore. Noi dovremmo fare attenzione a quello che è accaduto fuori dalla scuola e che accadrà fuori dalla scuola perché come abbiamo visto prima delle vacanze natalizie la possibilità di contagiarsi a scuola sono abbastanza limitate. Quello che può incidere sono le condotte di vita fuori dalla scuola, le occasioni di incontro anche sui mezzi di trasporto e per carità anche a scuola può avvenire il contagio però questi provvedimenti, anche l'allentamento delle occasioni di raduno collettivo tutto questo dovrebbe comunque contribuire a controllare la tendenza al rialzo dei positivi.